Bentornato nel mio canale news. Ultime notizie aggiornate oggi Un violento omicidio al culmine di una lite. Nella mattina di oggi, domenica 7 agosto, un uomo di 73 anni ha ucciso la moglie 74enne nella loro abitazione a Venaria, in provincia di Turino Il delitto è avvenuto intorno alle 10,30 durante un'accesa discussione tra i due coniugi, entrambi pensionati L'arma del delitto sarebbe un bastone, con cui il 73enne ha colpito ripetutamente la donna, fino ad ucciderla A dare l'allarme sono stati i vicini di casa che hanno sentito la coppia litigare Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia Carabinieri di Venaria Reale, che hanno trovato la donna oramai priva di vita accertando le responsabilità del marito Al termine delle attività coordinate dalla Procura della Repubblica di Ivrea, Torino, l'uomo sarà condotto presso il carcere di Ivrea Cosa ne pensi delle notizie di cui sopra, ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità Arrivederci, ci vediamo al prossimo video